ciao a tutti ben ritrovati su questo breve video dove vi farò vedere come aggiungere la temperatura del nostro computer della nostra cpu sulla barra delle applicazioni come monitorare insomma la temperatura del nostro computer andremo a far vedere qua l'icona in basso a destra della temperatura del nostro computer il modo da tenere monitorato il nostro pc quindi per prima cosa dovremmo andremo su questo sito andremo a scaricare questo installer che questo qui andremo a scaricare proprio questa versione la local questa qua locale andremo a scaricarla bene dopodiché andiamo procediamo con l'installazione è un file leggerissimo che non pesa niente giusto andremo a dargli vari permessi installiamo una volta finito facciamolo partire qua andiamo clicchiamo su run lasciamolo caricare bene dopodiché qui chiudiamo pure chiudiamo anche qui bene prima cosa una volta che abbiamo questa interfaccia andiamo su programmi dopodiché andiamo sul settaggio andiamo sul setting qui andiamo a spuntare qua lo show screen on startup e qua minimizzare qui e qua anche minimizzare lo screen e anche selezioniamo anche il auto start dopodiché clicchiamo su ok poi dopo di che andremo su ci uscirà questa interfaccia poi dopo di che andiamo su cpu package questa qui tasto destro del mouse dopo di che clicchiamo su add to try bene una volta cliccato ecco qua che ci appare la temperatura del nostro computer il modo da tenerlo monitorato bene ragazzi con questo è tutto spero che il video vi sia piaciuto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto ragazzi alla prossima ciao